ciao ragazzotti come va spero tutto beh mi raccomando di scrivere di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da non perdervi nel suo mio fantastico video detto questo direi possiamo ok raga nell'ultimo episodio abbiamo iniziato questa bellissima farm farm in questo video diciamo ecco per una farm allora ben inizia questa farm ma nella live scorsa abbiamo fatto una cosa veramente veramente bella e poi faremo un collegamento nel dirlo togliere ci collegheranno tutte le varie cose principali varie costrutture principali ok nello scorso e viso nella live abbiamo fatto questa cosa qua portate qua che figa la nostra nuova casa inseriamo così guarda qua il soffitto e basta ce l'abbiamo fatto fino a qua qua sotto penso andremo a fare il magazzino poi vediamo un po esatto poi vediamo come se non cadevo forse era meglio ma oggi andremo a continuare l'ovile ma prima di continuare l'ovile raga volevo craftare una cosa insieme a voi in blocco sonoro per farvi vedere insomma una cosa poi vi faccio così vi faccio vedere andiamo nella nostra base nella nostra vecchia casa ok eccoci qua dobbiamo craftare delle piccole cose allora ci serve un po di legno allora 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 ne faccio ne facciamo due eccoli qua poi che ci mancano nient'altro perché abbiamo tutte le che legno ce l'abbiamo di là niente andiamo ritorniamo al insomma ritorniamo alla casa laggiù laggiù nel frattempo mi raccomando raga fatemi questo favore lasciate un bel like condividete che è importante con quella nostra villa sta venendo veramente veramente figa secondo me veramente 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 bella e la cosa più bella non vedo l'ora di fare i collegamenti che ci portano tutte le varie zone ma mai non vedo veramente l'orgia del ragazzo giurin giurello non è nemmeno troppo lontano poi qua dovremmo fare altre cose che qua beliremo ovviamente non lasceremo così comunque buchiamo io direi pure di lasciare una petana una petana sulla vediamo se non funziona quale no appunto che cacchio bisogna fare con due no allora buchiamo qua sotto ok perfetto allora buchiamo ancora uno vediamo adesso così come viene allora facciamo così 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 no c'è un problema di fondo vediamo un po ok raga risolto perfetto guardate fighissimo fighissimo oddio che figata no vabbè sta cosa è stupenda raga perfetta mo facciamo quello di qua no no inizio uguale qua fighissimo diciamo anche questo diciamo anche quest'altro perfetto certo sono 350 volte ogni volta che passi è però dai è la figa 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 allora torniamo all'ovile così cominciamo eccoci qua allora coloriamo due pecore nel frattempo ci prendiamo la loro lana andiamo così ok almeno c'è più la mita per noi più la netta allora dobbiamo fare pure in colore verde allora facciamo così per il verde line 36 forse esagerato ma va bene così raccogliamo anche se raccogliamo tutta la cosa come si chiama la lana raccogliamo tutta la lana ragazze ragazzo ragazzi non le chiusiamo quasi ci siamo quasi ma quanto l'avevo fatto un bordello un bordello a fine delle spiglie datemi tutta la vostra lana dai muovetevi ok quanto e beh l'abbiamo fatta parecchia eh abbiamo fatta parecchia allora coloriamola così poi coloriamola anche la di verde così ok perfetto perfettissimo allora il colore verde lo mettiamo qui lo mettiamo qui che oggi vorrei cercare di completarla insomma questa ok perfetto allora su manca il verde ragazzi mettete un po giusto cioè non sto tanto bene quindi capite mi mettete un bel palicello in su allora ah perfetto perfetto l'arcobaleno sta uscendo fuori ok mancherebbe pure l'arancione ma vediamo c'abbiamo il colore c'abbiamo il giallo il rosso abbiamo anche questo allora vediamo un po questa ne esce fuori se facciamo così no levati quasi serviranno tutti eh ma non pensa che ci bastano comunque anzi no 20 ci bastano ok perfetto perfettissimo e a chi zombie rompi scatole come sempre battere via andiamo a dormire che forse è meglio andiamo a dormire guardate quanti mob guardate guardate guarda lì guarda lì guarda lì salve cesso allora arancione arancione lo mettiamo qua mettiamolo qua comunque come avverendo bene spero no vi ricordo sempre che ho preso spunto da peppo ragazzi ho preso per spunto da lui ve lo ripeto però qua questi metà proprio questo nome trinciate e trinciato e ok mettiamo salana prendiamo sto legno prendiamo stefans prendiamo 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 e prendiamo ok la terra 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 non ce l'ho eh te pareva va bene va bene così va bene così va bene così ok va perché qua volevo chiudere a cavolo chiude perfetto vabbè poi chiuderò io dopo dai non fa niente non fa niente non fa niente però dovremmo fare anche la parte ce l'ho a questa parte dovremmo fare ma 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 ok allora con facciamo questo ok facciamo facciamo che è perfetto perfetto l'entrata verrà qua quindi tiriamo sopra no vediamo un po vediamo un po allora come fare questa entrata allora intanto facciamo una cosa del genere qua perfetto perfetto e perfetto ok poi facciamo così facciamo così così e così ok ok ci siamo ci siamo ci siamo questo ovviamente va tirato sopra e anche quest'altro va tirato sopra allora per il tetto ragazzotti ragazzotti allora non saprei se fare sinceramente il legno ma vediamo facciamo il legno si perché no facciamo il legno per il tetto invece c'ho intenzione di fare una cosa del genere allora dobbiamo uscire fuori di uno ok perfetto e poi facciamo sempre il solito trick che fai così così e fino a quando non arrivi sopra ok almeno stona un pochettino no ragazzi eh per forza vabbè qua può entrare levato questo qua pure questo e pure questo e anche questo ok vabbè e anche quell'altro si ok è levato pure quello dunque non sta avvenendo per niente male dai va bene va bene allora torniamo sopra torniamo sopra e si continua fai tipo così poi fai così poi fai così fino a quando non arrivi sopra però dobbiamo iniziare pure all'altra parte se no andiamo sopra all'infinito mannaggia va bene tutta una punta perché torniamo sopra certo se questi blocchi li mettessi qua ecco sarebbe stato meglio ok perfetto perfetto ok vabbè fa niente facciamo dieci blocchi ma che ce ne importa che ci importa andiamo sopra 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 ok ragazzi inizio del tetto è fatto famosi si riferano tante slab di legno ma tantissime ma veramente veramente tanto per fortuna che qua per far male non sono sono anticipato perché se no qua se no qua era brutta 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 allora prepariamoci un po' tutti il necessario quindi tanto tanto legno scale slab questi e questa perfettissimo serviranno tantissimi slab perché anche lì dove sembrano blocchi non sono blocchi ma sono slab quindi prepariamoci un altro po' di legno un bel po' facciamoci un bello stack così un altro bello stack di slab iniziamo torniamo sopra poi insomma vedremo il da farsi andiamo sopra andiamo sopra vai vai ok l'effetto sonoro by production ok eccoci sopra finalmente ci sono riuscito allora facciamo così 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 vabbè praticamente dobbiamo fare un po' tutto quello in pratica dobbiamo fare in pratica cioè dobbiamo ricopiare questa parte di stone brick no dobbiamo ricopiare non sarà per niente facile allora facciamo così qua ci andrà una slab qua se ne ricordo male sono un blocco o qua mi sa che va bene anche un blocco vediamo esatto non va bene un blocco una slab è anche questa allora slab vabbè qua un blocco no non è un blocco cacchio cacchio ok va bene va bene è un perfect perfect allora facciamo tutta la cosa così facciamo prima allora facciamo così e ci facciamo tutto il tetto ok raga il tetto è completato adesso ci manca solo da fare quest'altra parte qua insomma di mettere le queste cose qua come che stone brick no stone brick stone brick stone brick stone brick allora ci serviranno tante slab come sempre ma mi è stata una tortura fare questo detto ragazzi non è già me quando ho deciso di fare tutto con le slab va bene così allora allora qui scala qui slab qui slab da come vedete che sono due blocchi ok qua vabbè slab è quello sbagliato ovviamente ho sbagliato però mi sa che non ci bastano quindi dobbiamo andare a fare altre slabine ma nel frattempo ragazzi ma che ne dite se iniziamo una serie o mini serie del minecraft moddato che ne dite ma non troppo meccanismi cose un po' leggero capito un po' nè comunque torniamo sopra vai 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 olle il tetto comunque non è finito ragazzi quindi lo finiremo nelle prossime puntate perché devo trovare tutti i colori avete capito insomma bene che non è tanto facile non è tanto facile e specialmente il coso il marrone che è difficilissimo perché se non trovo una giungla a meno che non sia da quelle parti ma non lo so il marrone come cacchio cioè il marrone se non c'è una giungla se non c'è il cacao cioè io come faccio non lo so non lo so non lo so non lo so allora completiamo qua ok perfetto ultimi tre ultimi tre slab ok perfetti perfettissimo perfettissimo allora adesso dobbiamo dobbiamo completare dobbiamo fare pure la parte davanti io sto pensando di farla sempre con il colore insomma della Lara insomma vediamo come viene fuori allora vediamo il bianco ok eccolo qua facciamo così no 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 non viene bene non viene bene oppure si vediamo no non viene per niente bene ma per niente per niente no 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 non viene per niente bene ma qua c'andrà il glass ma prima di tutto leviamo questa cosa perché mi sa tanto sui nervi ma sui nervi sui nervi di quelli belli potenti eh mamma mia levati ok perfetto 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 perfettissimo allora qui si dobbiamo cambiare qui andrà alzato questi casi non si possono vedere così bassi in senso cioè fa schifo fa schifo ma ovviamente non posso dai alzati ancora uno ok perfetto grazie mille è stato molto così scaviamo con vabbè lasciamo verde eh bisogna dargli una giustata ma facciamolo anche di qua facciamo almeno la parte di fronte oggi facciamo la parte di fronte allora se faccio oh così già mi sento leggermente meglio poi come possiamo fare come possiamo fare ci siamo altri blocchi in legno ovviamente dacci questo dacci nostro pane ok grazie mille vai torna sopra torna sopra torna sopra ok lo facciamo di qua lo facciamo di qua tu vai su eh ok ok vai ce la possiamo fare ok perfetto perfettissimo poi 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 se facciamo anche qua così ce la faccio ragazzi la faccio tranquilli che ce la posso fare ce la posso fare perfetto e vabbè però allora si strunz ok perfetto alleluia alleluia che sia lodato che sia lodato ok già così non si sta non sta andando troppo male eh allora risolgiamo queste cose qua ok perfetto adesso direi di metterci anche delle slab no delle slab come cacchi di questi cose qua insomma espusse avete capito non espusse espusse perfetto vai sopra vai eh non è male non è male non è male non è per niente male ma sono sicuro che ne serviranno altri ah no eccoli qua perfetto perfettissimo torniamo sopra torniamo sopra torniamo sopra eh ma io come ci vado là dobbiamo fare un'imparcatura imparcatura imparcatura allora facciamo tutto fino a sopra qui mettiamo le slab perché no ho le slab di questo vediamo così e così qua qua mettiamo così così e così oh no 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 non mi piace qua non mi piace non mi piace oh oh qua mettiamo questo ok perfetto poi qua dovremmo mettere secondo me secondo me allora scendiamo sotto scendiamo sotto vai allora se io qua metto così no non è più figo è più figo sì molto più figo più faico più faico è molto più faico allora facciamo così oppure allora qua intanto dobbiamo metterlo perché sennò fa schifo qua dobbiamo metterlo perché sennò fa schifo qua dobbiamo levare perché non c'entra un emerito un emerito finito con la frase con cosa con quale merito allora facciamo così perfetto qua andrà la slab di legno che non c'è al momento fammola prendere prendiamola prendiamola sì ciao andiamo qua dormiamo ah facciamoci questa bellissima dormita importante dormita torniamo sopra vai 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 ok qua ci andrà una slabina è assoluta anche di qua eh per forza e per forza allora mettiamo eh però non è una cosa di mezzo la vorrei mettere però boh no non viene tanto tanto bene non viene tanto bene allora facciamo così e chiudiamo tutte qua con le slabine sì con le slab va bene raga capite mi sono stato andato bene dai con gli spruzzi con le fence con le fence ok va bene va bene tanto alla fine è come una stalla cioè è una stalla non è come una stalla avete capito no avete capito allora facciamo così facciamo così facciamo così completato completato ok però sto penso qua davanti forse non ci deve stare penso proprio di no esatto 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 lei esatto lei allora facciamo così e vediamo da lontano come è uscito fuori certo se farebbe anche questa parte sarebbe stato meglio però beh non c'è male non c'è male non c'è veramente male dai va bene va bene qua ovviamente poi andrà il glass qua sta cosa andrà levato va bene va bene così allora cerchiamo almeno facciamo almeno la stradina che ci collega qua allora qua è di tre esattamente facciamo così allora dobbiamo levare tutta questa arba brutta mamma mia levati ok ok facciamo così ahio muovere una strana cosa veramente veramente figa poi c'è in mente una cosa per i collegamenti raga ma sarà veramente fighissima cioè figa cioè avete capito no allora completiamo facciamo tutta la strada ok completata penso dobbiamo fare la strada e devo farci dobbiamo fare la strada anche qua dentro che non l'avevo fatta tutta comunque non è malaccio è pure dentro guardate che figo là guardate guardate cioè fighissimo allora questa la facciamo insieme completiamo facciamo fino a qui perfettissimo perfettissimo tu torcia brutta levati ok torcia brutta brutta torcia ok 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 perfetto poi qua ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa di quell'altra parte perfetto allora mamma mia viene proprio una figata viene proprio una figata questa strada cioè mamma mia ok questo completato perfettissimo poi andiamo all'altra parte facciamo no facciamoci in altra parte cioè risaliamo ora risaliamo ok perfetto e ok e facciamo la stessa cosa di qui perfettissimo ok ok e ok perfetto 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 adesso leviamo tutti questi stipilar brutti che possono guardare e direi che è venuto uguale aspetta non è venuto uguale adesso è venuto uguale all'altra parte perfetto 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 vabbè manca la lana ma dobbiamo ci sarà da fare questa stalla ci porterà via tanto 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 tempo a tanto tempo allora io direi per questo episodio ragazzi è tutto io vi voglio bene e ciao 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 ragazzotti il video è finito mi raccomando guardatevi video random e video consigliati e iscrivetevi mi raccomando se vi siete già visti questi video ci vediamo domani con un bellissimo video ciao ciao un bacione ciao 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 Grazie a tutti.